Questo è un metro, vedi? Sì Cento centimetri Cento centimetri Oggi è tuo compleanno, auguri Grazie Però è parecchio che non fai un film Dai, sono successe cose più importanti, è nato Pietro Sì, 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 però cerca di stringere Quanti anni è che vuoi vivere? 70, 75? 80 80, ok, tolgo 20, e questo 80 Oggi compi 44 anni, quindi devo andare giù fino a qua Ecco, guarda, questo è quello che resta Auguri, eh? Comunque Comunque Ma no, 80, che stupido Che senso ha 80? Volevo dire 95 95 anni, volevo dire Mi ha preso in contropiede 80, meno 44 80, meno 44 Troppo Corrispongono le loro collezioni In un museo di Firenze E perché devo andare a filmare? C'è una pazza che si mette in mostra Con le sue operazioni di chirurgia plastica Dentro un museo E chi se ne importa? I ritagli che ho accumulato In più di 20 anni Solo perché mi facevano arrabbiare Via Tutto via Tutto via Non posso commentare Niente Non mi viene da piangere Né da scrivere una brutta poesia Trovo finalmente il coraggio E indosso la mantella invernale Che non avevo mai osato portare Che non avevo mai osato portare Che non avevo mai osato portare Il 91 Il 91 Il90 Che non avevo mai osato portare O Il 85 Il 91 Il 93 Il Il 95 Il bin lose I Motore, 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 motore!